Allora, l'obiettivo di oggi è quello di osservare il funzionamento delle licenze, quindi nell'ambito dell'open science a vedere un po' come funzionano le autorizzazioni. Ho pensato principalmente di concentrarmi su come nascono e a cosa servono le licenze, che cos'è una licenza, approfondendo un pochino cosa sono le licenze Creative Commons, visto che sono tra le licenze più utilizzate, e anche identificare tra le licenze Creative Commons quelle che sono più adatte per l'open science, quindi per i nostri scopi a livello di SUPSI. Poi mi focalizzerò un attimo su come si utilizza una licenza e infine su chi può scegliere e usare le licenze. Ho lasciato anche alcune questioni che magari possiamo affrontare, se c'è tempo, se si può entrare un po' di più nei dettagli, e quindi ho lasciato il tempo per alcune questioni più specifiche che si incontrano nel settore dell'open science, quindi quali sono i materiali che possono essere usati di altri, quindi dove si trova la licenza, e poi anche come si chiedono le autorizzazioni, come ci si accorda anche sulle licenze. Allora, nell'ambito dell'open science la definizione è molto ampia, open science include tantissime cose diverse, ma quando si parla di open science e di licenze libere, l'aspetto più importante è questo aspetto di apertura. L'open science infatti è un po' come un unlock, e questo concetto di apertura di un lucchetto, che permette di facilitare la collaborazione, l'innovazione, il riuso, la condivisione di contenuti, la trasparenza sui dati e sui contenuti prodotti dalla ricerca, l'accessibilità e l'affidabilità. In pratica, l'apertura dei contenuti, che l'open science promuove, scusate che interrompo, Michel mi ha chiamato e gli chiedono come un ID o per entrare... Sì, è quello che si trova nel link che vi ho mandato, se volete lo apro un secondo e ve lo do. Aspetta, forse... Il link è... lo metto nella chat, magari? Ah, non è il link, è l'innovazione. Lui ha fatto il link, gli avevo ridetto l'indirizzo, ma gli chiede un... È la stessa cosa. Il link è praticamente... Gli ultimi cifre, i numeri che compaiono nel link sono il codice d'accesso. Ah, intanto. È quel numero che inizia con 816-89-326124. Per lì, lo dice? 816... No, no, sono le cifre, sono le cifre. 8-9... 816-89-3261-24. Non ti dà l'accesso comunque. Ok, tanto, tanto, molto attenzionato. Come? Come? Io no, 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 però appunto dovrebbe essere... Te lo vi dico, forse te l'ho dettato male. 816... 816-89-3261-24. 2-4 e non 3-4. Eccolo lì che sta arrivando. Registrare audio deve consentire? Eh, sì. Sì, 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 deve consentire. E... Avevamo iniziato, però appunto avevo... Iniziamato. Eccoci, ci siamo? Riesci a sentirci? Riesci a... Ci senti, Michel? No? No. Sì, sembra che sia scollegato l'audio al momento. Il suo audio non appare. Sì, ha scollegato l'audio, è la misce? Ci raccomando, ovvero. Se non chiami... Ok, ciao. Ha detto, guardate, ci riprova, ma ha detto comunque di continuare. Ecco, si scusa molto, ma l'audio non funziona, legge il labiale. Va bene. Quindi, tornando al tema dell'open science, dell'apertura, se vogliamo aprire i contenuti prodotti dalla ricerca, i contenuti prodotti dall'università, dagli studenti, dalle persone che lavorano all'interno dell'accademia, il modo in cui possiamo farlo, il modo più efficiente, è attraverso le licenze. Ma facciamo un passo indietro. Come nascono e a cosa servono le licenze? La caratteristica più importante quando si pensa a tutti i diritti riservati è che sostanzialmente se non c'è scritto niente, cioè se non c'è una licenza, tutti i diritti sono riservati. Non si può praticamente fare niente con del materiale. Ci sono delle eccezioni. Alcuni usi sono consentiti. Per esempio, il materiale in pubblico dominio è un materiale che si può riutilizzare. Pubblico dominio significa che sono passati 70 anni dalla morte dell'autore. Sono anche ammessi alcuni usi specifici. Per esempio, l'uso personale dei materiali è sempre consentito, così come degli usi legati alle citazioni o al diritto di informazione. E poi non tutto è coperto da diritto d'autore. Ci sono i dati, le informazioni e poi i contenuti che non sono considerati originali che non sono coperti da diritto d'autore. Ma il problema è tutto il resto. Cioè, se io creo una tesi di laurea, scrivo una ricerca, scrivo un articolo, produco delle fotografie, prendo appunti durante un evento, o scrivo del codice di un programma, oppure creo una macchina, tutto questo materiale è coperto da diritto d'autore. E la grande battaglia sulle licenze libere e su come creare un uso più ampio di materiale contemporaneo, quindi non coperto dal pubblico dominio, è stato veramente il punto di partenza nella nascita delle autorizzazioni delle licenze libere. E in particolare, le licenze libere nascono da questo desiderio, soprattutto degli informatici, dei programmatori, di vedere come sono fatte le cose dentro per poterle riprogrammare. Una delle icone delle licenze libere, dell'apertura dei contenuti, è Richard Stallman, che a volte lo si vede nelle conferenze girare a piedi scalzi, ed è un personaggio abbastanza particolare. Ed è stato la persona che, prima di tutto, ha creato un po' la rivoluzione delle licenze libere. Un informatico, lui lo racconta molto bene, c'è un libro che è appena uscito di Carlo Piana, che si chiama Open Source Software Libero e Altre Libertà. È un libro molto recente, che è molto carino come lo racconta, perché racconta di Stallman, che in ufficio voleva avere accesso alla documentazione delle stampanti, perché non funzionava bene, non si sincronizzavano. Allora voleva vedere come era fatto il programma per poterlo modificare. E scopre che il programma non è accessibile, e non può vederlo, non può vedere la sorgente, il codice sorgente, così si chiama, e si irrita tantissimo e decide che questa cosa qua deve cambiare. Si deve poter vedere il codice sorgente, si deve poter vedere dentro i programmi, e si deve poter intervenire su questi programmi. Ed è da questo che nascono le prime licenze libere, soprattutto per il software. Il vedere come sono fatte le cose dentro è proprio una delle caratteristiche che fa nascere l'uso delle licenze. Per esempio, un esercizio secondo me molto utile quando si guarda un sito internet è che alcuni dei programmi, per esempio il browser Chrome, quando voi usate, navigate su internet e guardate un sito come quello della Sipsi, potete chiedere al browser di farvi vedere il codice sorgente. Potete dirgli visualizza le opzioni per sviluppatori e voi potete sempre vedere per ogni sito internet come è fatto dentro, cioè com'è la programmazione, com'è il codice che ha creato quel sito. E questo è stato una rivoluzione. Praticamente per moltissimi programmatori lo sviluppo di nuovi siti internet è nato proprio guardando il codice che c'era, copiando, incollando e creando nuovi siti internet a partire da materiale che vedevano online. Ed è proprio questa idea di vedere dentro le cose, poterle usare e poterle modificare che crea un po' la rivoluzione, il movimento delle licenze libere. In realtà li chiamano evangelisti del sapere libero. C'è proprio un movimento internazionale che dice vogliamo poter vedere come sono fatte le cose, vogliamo poterle riusare, vogliamo poter produrre opere derivate a partire dal materiale che esiste. Nell'ambito universitario, nell'ambito dell'open science, è un po' un iceberg sommerso. Se noi pensiamo infatti all'open science, la cosa più nota, diciamo, di questa direzione in cui stanno andando le università è avere la possibilità di leggere un articolo scientifico online. Uno dice l'apertura dei contenuti accademici significa poter finalmente leggere gli articoli, poter avere accesso alla documentazione legata alla ricerca. In realtà è molto di più quello che si vuole liberare, è molto di più quello che si vuole rendere disponibile. Non si tratta soltanto di avere accesso alla lettura di un articolo, ma si vuole poterlo far circolare, si vuole poter vedere i dati che hanno permesso di creare quell'articolo, si vuole poter usare questi dati per controllare i risultati della ricerca, oppure anche proseguire la ricerca, o utilizzare quella ricerca per nuovi scopi, rielaborare l'articolo e tradurlo, oppure coinvolgere altre persone nella ricerca. Cioè tutti questi usi di materiale che non sono soltanto posso leggere l'articolo, ma posso fare molto di più con questo materiale, sono legati alle licenze libere. Cioè alcune licenze, qui ho inserito le licenze Creative Commons, CC Zero, CC Buy, CC Buy SEA, poi le guarderemo più da vicino, però queste licenze aperte permettono non tanto e soltanto di leggere l'articolo, di avere accesso al materiale, ma di fare tantissime cose con il materiale prodotto dalla ricerca. Un'altra caratteristica fondamentale di questo accesso al materiale della ricerca e l'uso delle licenze all'interno del materiale della ricerca è che è indispensabile per poter collaborare. Per poter collaborare devo avere l'autorizzazione e un'altra cosa è indispensabile per poter usare quei contenuti o riusarli come spesso si dice. Anche in quel caso mi serve un'autorizzazione. Per fare un esempio di collaborazione si troveranno sempre licenze libere nei progetti collaborativi online. Per esempio Wikipedia, che è uno dei più grandi progetti collaborativi online, ma ce ne sono tanti altri, Wikidata, OpenStreetMap, Wikimedia Commons, tutti i vari siti che permettono una collaborazione tra più persone in un progetto aperto necessitano di una licenza libera. Per cui Wikipedia, per esempio, ha la licenza Creative Commons attribuzione e condividi allo stesso modo. Anche questa è una licenza Creative Commons. Questa licenza permette appunto la collaborazione. Wikipedia, come il software che sognava Richard Stallman e come i progetti che sognano gli evangelisti del sapere libero, permette sempre di vedere com'è fatta dentro. Quindi è proprio un esempio di questa idea del codice sorgente, del vedere come sono fatte le modifiche che vengono registrate. Permette di vedere dentro e poi di modificarla. Quindi Wikipedia è uno dei pochi siti una encipiopedia insomma rivoluzionaria perché permette a tutti di vedere come è scritta e intervenire. Ci sono adesso poi delle modalità più semplici per intervenire e quando si interviene Wikipedia chiede alla persona che è intervenuta di dare l'autorizzazione quindi di usare questa licenza libera e questo è fondamentale perché altrimenti altri non potrebbero continuare a modificare l'enciclopedia. Quindi la collaborazione, la possibilità di usare il materiale di altri, di tradurlo di creare qualcosa di nuovo attraverso quello di creare nuovi siti nuove risorse ma anche di correggere un errore richiede un'autorizzazione e le licenze libere permettono questa autorizzazione. Infatti sono proprio le licenze che ti danno l'autorizzazione quando il diritto d'autore ti direbbe che non puoi fare tutte queste cose. Quindi entrano soprattutto in quel materiale che non è in pubblico dominio e che potrebbe essere utilizzato per nuovi usi. Nella pratica quindi questo per dare un'idea del perché le licenze cioè cosa permettono di fare e per quale motivo hanno senso e per quale motivo si collegano all'open science. Per dire in poche parole che cos'è una licenza in pratica le licenze sono delle autorizzazioni. Le chiamo autorizzazioni standard perché sono delle autorizzazioni che hanno più valori. Non è un'autorizzazione scritta di mio pugno ma un'autorizzazione che permette a tutti quanti di capirla. C'è una licenza che deve essere comprensibile dagli esseri umani tutti devono capire che cosa possono fare quei contenuti. È un'autorizzazione che è comprensibile dai computer nel senso che una macchina può leggere i metadati cioè può riconoscere quell'autorizzazione e infine è un'autorizzazione che è a valore legale cioè è un'autorizzazione che è stata inserita è stata controllata la sua adeguatezza in vari sistemi giuridici e attualmente le licenze Creative Commons 4.0 internazionali sono delle licenze che appunto hanno valore in tutti i paesi del mondo quindi sono compatibili con la legislazione nazionale un tempo prima delle licenze libere se io dovevo fare dare un'autorizzazione davo un'autorizzazione ad una sola persona quindi i contratti di autorizzazione erano io che autorizzo il mio collega ad utilizzare il mio materiale per proseguire la ricerca quindi erano uno a uno le autorizzazioni oppure io do l'autorizzazione a questa casa editrice quindi quell'ente per utilizzare questo materiale le licenze libere permettono di dare delle autorizzazioni che si rivolgono a tutti cioè chiunque può prendere qual materiale e usarlo come gli dico che può usarlo adesso poi entreremo nel merito questa caratteristica dei tre livelli delle licenze è molto importante cioè è importante che la licenza sia appunto comprensibile da tutti dalle persone leggibile da un computer e deve avere un valore legale quindi deve sempre avere queste caratteristiche poi entreremo un pochino nel merito quando si usa la licenza in modo tale che sia bene utilizzata e sia inserita nel modo corretto in modo tale che siano leggibili tutte queste parti fino a qua magari c'è qualche domanda c'è magari bisogno di qualche chiarimento qualcosa proseguo con il buongiorno Michele buongiorno ben arrivato sono arrivato anch'io però in silenzio chiedo scusa che non vi vedo quando parlo per cui ho tolto un secondo il video allora proseguo spiegando un pochino come funzionano le licenze Creative Commons allora le licenze Creative Commons sono tra le licenze più usate soprattutto per testi e immagini per il software ci sono altre licenze che sono più comuni però partirei dalle licenze Creative Commons perché le si incontrano abbastanza spesso allora le licenze Creative Commons funzionano con una serie di piccoli simboli che combinati tra loro producono i vari tipi di licenze il principio è abbastanza semplice allora si parte dal principio che si parte dal principio che alcuni diritti sono riservati quando vedete del materiale che è sotto copyright la tipica dicitura è all rights reserved cioè tutti i diritti sono riservati vuol dire non potete fare niente con questo materiale le licenze Creative Commons usano un altro paradigma dicono some rights reserved alcuni diritti sono riservati e vi dico quali cioè il principio è potete fare tutto quello che volete tranne che quindi vi dico tranne che cosa indicandolo nella licenza e combinando i vari elementi della licenza allora queste sono tutte le licenze Creative Commons CC sta per Creative Commons quindi mi dice che quella è una licenza Creative Commons ovviamente cliccando sopra accederò ai diversi testi che mi spiegano anche a parole che tipo di licenza è ma anche attraverso i loghi io posso capire che cosa vuol dire allora la prima in alto a sinistra la CCBI la CCBI scusate poi mescolo sempre un po' di inglese un po' di italiano comunque la CCBI è la licenza Creative Commons Attribution si scrive anche in questo modo si dice anche in questo modo in pratica dice con questa licenza puoi fare tutto tranne devi attribuirmi il lavoro cioè quel buy quello mino che vedete dice attribuisci questo lavoro vuol dire che bisogna citare l'autore e bisogna indicare qual è la fonte di quella di quell'opera però si può fare qualsiasi uso uso commerciale non commerciale si può modificare si può ridistribuire insomma tutti gli usi sono consentiti tranne questo attenzione che in realtà l'attribuzione è un diritto morale quindi in realtà anche quando la licenza non lo richiede come nel pubblico dominio attribuire alla fonte un materiale è un obbligo etico per dei ricercatori quindi bisogna sempre attribuire la fonte però in questa licenza è anche richiesto proprio dalla dalla parte legale la seconda licenza è quella che vedete sotto la CC BY SA che si chiama anche Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo è una licenza che dice ancora una volta attribuisci il lavoro e in più aggiunge un'altra clausola dice share alike cioè condividilo nello stesso modo si chiama anche copyleft questo cioè è la richiesta che chi utilizza il materiale debba poi rendere disponibile le opere derivate con la stessa licenza quindi è una specie di effetto virale voglio che gli altri usino il mio materiale ma non voglio che lo chiudano voglio che quel materiale resti sempre aperto ci sono poi altre combinazioni il simbolo che vedete sotto NC che è un non commercial si sta per non commercial con il simbolo del dollaro abbarrato vuol dire che non è autorizzato l'uso commerciale l'uso commerciale tra l'altro è un tema un po' complicato nel senso che anche un sito internet che ha dalle pubblicità può essere considerato un uso commerciale un uso commerciale è anche se io prendo del materiale e lo pubblico su un libro scolastico che ha un prezzo anche quello è un uso commerciale se io uso del materiale per un un'app magari utilizzo una mappa su un'app e l'app è a pagamento anche quello è un uso commerciale quindi i progetti liberi non vogliono l'uso cioè non vogliono che ci sia questa clausola tutti gli usi devono essere consentiti non si può togliere l'uso commerciale un ultimo simbolo che compare è l'uguale vuol dire non derivative vuol dire che non è autorizzato la produzione di opere derivate in pratica non si può modificare quel testo non lo si può usare per creare delle cose nuove questo significa che non si può correggere un errore non si può riutilizzare un dato della ricerca per produrre una nuova ricerca per cui anche questa clausola nell'open science non la si vuole perché non permette la produzione di nuove opere infine l'ultima licenza che vedete è in realtà la CC0 che è in realtà il pubblico dominio in pratica è quando si rinuncia a qualsiasi richiesta resta però come sempre valido il tema del diritto morale quindi l'attribuzione legata al valore insomma al contributo che fa un ricercatore o una persona al sapere per cui bisogna sempre citare la fonte comunque come dicevo appunto non tutte le licenze di Creative Commons sono utilizzabili per sono utilizzabili per l'open science quelle che sono raccomandate sono la la CC0 quindi il pubblico dominio la CCBI quindi soltanto l'autorizzazione che richiede l'attribuzione che è una delle più comune utilizzate la vedrete spesso su Zenodo la troverete anche nei progetti di Open Educational Resources e poi la CCBI SA che è una licenza appunto che richiede la condivisione allo stesso modo dei contenuti detto anche il copyleft quindi questa idea di continuare a mantenere aperte le cose e che è una quest'ultima aggiunge una clausola ma questa clausola è molto sentita dalle comunità online dei progetti liberi per questo che la trovate su progetti come Wikipedia come OpenStreetMap perché Richard Stallman era uno dei grandi sostenitori questo desiderio di mantenere aperte le risorse e in effetti anche quando io suggerisco l'uso delle licenze per la SUPSI per i materiali essendo poi una appunto figlia di questi progetti collaborativi online io suggerisco l'utilizzo della CC0 per i dati non perché non si citi l'autore ma perché per i dati è molto difficile citare l'autore quando tu hai un database per cui la CC0 è in realtà la licenza più facile da realmente aiutare altri a produrre delle cose nuove quindi per i dati la CC0 è la licenza che è più comoda più efficace e invece per test immagini appunti materiale di ricerca io sostengo l'uso della CC BY SA CC BY SA scusate lo dico sempre un po' in inglese un po' in italiano questa Creative Commons Attribution Share Alike Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo perché ha un grande vantaggio anche quando ci sono più partner della ricerca cioè fa sì che il materiale resti sempre aperto e quindi più disponibile per tutti quanti ci sono magari delle domande qualche chiarimento necessario prego giusto non ho capito bene adesso proprio in questo momento la differenza tra la CC BY SA questa di cui hai appena detto che è la più quella che suggerisci e la prima la CC BY BY e tu forse allora è proprio è una allora la CC BY SA quindi SA sta per Share Alike quindi con i video allo stesso modo aggiunge una richiesta quindi entrambe chiedono l'attribuzione quindi chiedono che si citi la fonte la persona che ha l'autore del materiale ma la Share Alike quindi la SA dice ma se tu usi il mio materiale devi mantenerlo con la stessa licenza cioè non è che poi lo metti all rights reserved non è che poi lo chiudi lo mantieni libero quindi l'abbiamo aperto e adesso resta aperto è una aggiunge una clausola quindi è più restrittiva rispetto all'altra però diciamo che è un sistema anche se io lavoro per esempio con altre università o con dei colleghi mi permette sempre di poter accedere a quel materiale cioè non diventerà mai chiuso se loro vogliono produrre un progetto con tutti i diritti riservati possono farlo ma devono chiedermi l'autorizzazione quindi nel momento anche in cui si aggiunge si crea una licenza libera non si perdono i diritti su quella su quell'oggetto si può sempre fare dei prodotti che sono chiusi o fare delle nuove cose però bisogna rinegoziare quindi quello diventa il sistema di apertura e di condivisione per tutti poi dopo si possono fare altri accordi addirittura si possono usare più di una licenza anche questa è una caratteristica che può essere utile per la compatibilità magari di alcuni progetti può andare? allora adesso entro un po' nel merito di come si usano cioè come si inserisce una licenza come si fa allora quando usare una licenza il termine corretto è rilasciare dei contenuti con una certa licenza questo è il termine italiano più corretto si usano anche altre espressioni per esempio adottare una licenza alcune volte si dice donare dei contenuti con una licenza libera in alcuni casi quindi ci sono diversi termini spesso il termine release o rilasciare contenuti con una certa licenza è l'espressione diciamo più comunemente utilizzata allora un suggerimento è quello di inserire sempre la licenza indicare sempre la licenza questo perché indicando la licenza si fa chiarezza anche se un'istituzione ha una sua policy per cui decide che tutti i contenuti di quell'istituzione sono aperti inserire la licenza è importante perché rende molto più facile l'uso non solo io in questo caso per esempio in questo esempio ho inserito la licenza ma ho anche messo l'attribuzione cioè ho detto come voglio essere citata cioè in questo caso ho messo il mio nome ho messo la subsi come crediti quindi come attribuzione e poi ho indicato la licenza è importante dire come si vuole l'attribution quindi questo buy questa citazione della fonte perché facilita il lavoro alle persone che poi useranno il materiale però quello che ho scritto non basta allora quello che vedete in questa pagina è un logo vedete una scritta e vedete un link manca una cosa importante mancano i metadati quindi quando si inserisce la licenza voglio che sia come dicevo comprensibile agli esseri umani quindi il link conduce a vedere il testo della licenza il logo dà le informazioni sintetiche sulla licenza quindi in questo modo assolviamo il primo la prima parte di comprensione la seconda cosa che voglio è che sia comprensibile dai computer e i computer possono leggere la licenza attraverso i metadati oppure se inserisco un codice html dentro un sito internet questo farà sì che i computer indicizzeranno il mio il mio documento con la licenza opportuna dopo vediamo come farlo perché c'è un percorso guidato molto facile sul sito di creative commons per cui si può usare questa si può generare la stringa di codice attraverso un loro piccolo tutorial un loro piccolo sistema online infine il valore legale della licenza è dato o dal link oppure dal riportare il testo completo della licenza questi sono i due modi per per rendere accessibile comprensibile la licenza anche da un punto di vista legale quindi per riassumere quando si inserisce una licenza bisogna scrivere nel testo inserire nei metadati il tipo di licenza quindi con il logo fornire un link al testo completo e infine indicare l'attribuzione che si vuole come dicevo c'è un percorso guidato sul sito di creative commons che permette di condividere il proprio lavoro quello che si fa è si seleziona il tipo di licenza che si vuole se vogliamo scegliere la cc by essay scegliamo alla domanda consenti che vengano condivisi adattamente la tua opera la risposta è sì fin tanto che gli altri condividano lo stesso modo che è il concetto di share alike di cui dicevo prima permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali e come dicevo prima sì perché non vogliamo che siano limitati gli scopi e sempre nel percorso guidato si può indicare l'attribuzione quindi facilitare il lavoro di altri e il sito produrrà la stringa il testo che vedete sotto e la stringa di codice html che si può usare nella pagina web in modo molto semplice ecco su questo ci sono magari qualche dubbio qualche qualche domanda Yolanda posso farti una domanda ma è obbligatorio questo fatto di registrarsi nel sito del non è una registrazione attenzione è soltanto un piccolo aiuto per generare la stringa di codice cioè se uno non è capace di scriverlo a mano in html che magari per alcune persone è complicato perché non hanno familiarità col codice possono usare il sito come così come aiuto ma non è mai una registrazione le licenze sono gratuite e sono a disposizione di tutti è come se ti dessero uno strumento per poter dare l'autorizzazione agli altri ma è soltanto è come se fosse un linguaggio che ti permette di dare l'autorizzazione non paghi niente non ti devi registrare ed è sufficiente la tua dichiarazione nel momento in cui tu metti la licenza sul sito tu hai scelto la licenza sei tu che garantisci che sei d'accordo con quella licenza nel momento in cui consigli di farlo però di entrare no usare il sito è solo se se vi serve mettere la licenza su un sito web se tu devi mettere la licenza dentro un sito web vuoi metterla correttamente e il modo più semplice per mettere la licenza correttamente è usare il codice html ah d'accordo perché altrimenti non è indicizzato dai motori di ricerca dopo vi faccio vedere un esempio di come per esempio google indicizza la licenza delle immagini dei contenuti così si capisce che è quello vuol dire che le macchine machine readable cioè il computer capiscono la licenza sì ecco sì anch'io avrei voluto vedere un esempio sulla generazione del codice lo fai dopo allora sì possiamo anche guardarlo insieme lo facciamo sì va bene volevo fare per esempio allora il motivo per il quale si usa cioè si vuole che i computer riconoscano le licenze è perché esistono online diversi strumenti per cercare delle immagini con licenza libera o dei contenuti con licenza libera uno dei più semplici è quando fai una ricerca su google per immagini e vuoi delle immagini che siano con una licenza appunto che ti permette l'uso commerciale e la modifica allora quello che fai ho cercato cappello di paglia che mi sembrava in questa stagione decisamente più altamente primaverile primaverile forse uno strumento utile allora ho scelto cappello di paglia e vado su strumenti scelgo i diritti di utilizzo che è una delle delle opzioni che mi dà google nelle immagini all'interno dei diritti di utilizzo posso scegliere che tipo di diritti di utilizzo mi servono allora contrassegnate per essere riutilizzate con modifica sono le mie immagini in ccbye ccbye sa quindi scelgo quelle immagini e google fa una ricerca soltanto delle immagini che mi sono autorizzate cioè che sono disponibili con una licenza appunto aperta un altro servizio che si basa su quel codice html che genera il sito di creative commons che posso appunto scrivere è per esempio i canali di ricerca di creative commons io posso cercare su internet tutto quello che ha una licenza creative commons proprio perché mi permette il codice di essere letto da un computer vi faccio magari vedere online sul sito di creative commons guardiamo subito allora il sito di creative commons fornisce molte informazioni c'è una versione in inglese che è la più completa ma trovate anche molto materiale in italiano scusate adesso ce l'ho impostato in inglese poi c'è anche i siti di creative commons Italia che ha fonti in italiano poi si trova anche molto materiale tradotto comunque se scelgo il percorso share your work mi dà questo percorso guidato che si chiama choose a license scegli una licenza get started vedete appare già la pagina in italiano infatti avrei potuto usare direttamente il link creativecommons.org shoes che mi conduce su questa pagina che mi dà il percorso guidato allora io non sto inserendo nessun dato che registra il sito io sto soltanto chiedendogli aiuto per scegliere la licenza che voglio allora in questo caso come dicevo prima scelgo che gli altri condividano lo stesso modo quindi sì sono d'accordo ma fin tanto che gli altri condividano lo stesso modo sì sono d'accordo con gli scopi commerciali poi dice aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera quindi era quello che dicevo si seleziona in modo tale da inserire può essere questo aspetta titolo dell'opera chiamiamolo licenza libere a Yoranda pensa volendo posso mettere un link al sito dove si trovano i contributi per esempio openscience.supsi.ch questo è se si tratta di un'opera derivata quindi sto in realtà il materiale che sto producendo viene dal lavoro di qualcun altro quindi posso dirlo e posso quindi fare in modo che sia citato anche quell'altra persona qui se voglio aggiungere altre informazioni legate magari alla policy interna della mia università su come gestire il materiale se voglio indicare se si tratta soltanto del testo oppure dell'audio del materiale qui è come voglio generare il materiale quindi se io voglio che mi dia che questo sito mi crei la frasetta che vedete qua con il codice html scelgo questa opzione html più questo vuol dire che sto producendo la licenza sto creando la stringa di codice cioè che cosa devo scrivere dentro il sito per un sito internet quindi sto producendo il materiale che mi serve da usare in un sito internet considerate che questa stringa di codice verrà messa non so nella nota piedipagine oppure in un widget cioè all'interno dei vari menu del sito adesso poi non so che familiarità abbiate con i siti però diventa una cosa che nessuno vede ma che quando inserisco questo mi genera questa frase che vedete sopra mi dà altre opzioni cioè posso farmi dare il codice in xmp quindi con i vari metadati che mi servono magari per un file o per una tipologia di materiale al quale lo associo e infine se devo fare una pubblicazione mi dà le indicazioni cioè come scrivere correttamente la licenza all'interno della produzione quindi in pratica mi genera semplicemente un testo una stringa di codice del materiale che io copio e incollo e associo a quello che voglio rilasciare tra l'altro questa cosa applicazione della licenza è una feature una cosa che hanno appena inserito non era disponibile per cui carino permette insomma di facilitare il modo in cui voglio scrivere la licenza e fare in modo che sia un po' un percorso guidato però quando uso questa pagina del sito il sito non registra nessuna delle informazioni che sto scrivendo è soltanto un'interfaccia molto semplice che genera il risultato ma è non è che sto registrando quel contenuto e lo sto informando Creative Commons che è quel contenuto Creative Commons saprà che quel contenuto ha una licenza Creative Commons se io uso questi codici perché poi i motori di ricerca e i computer potranno trovare quella licenza in giro per il web o all'interno di file funziona? questo è più chiaro magari? ci sono altri chiarimenti altre? ok allora passiamo a invece chi può rilasciare materiali con una licenza libera allora ecco non tutti possono autorizzare il materiale gli unici che possono rilasciare del materiale con una licenza aperta sono le persone che detengono i diritti cioè chi ha i diritti può essere possono essere gli autori che detengono i diritti o più autori se si tratta di un'opera collettiva possono essere può essere l'istituzione a cui appartengono i diritti o più istituzioni se si tratta di un progetto con partner possono esserci anche degli enti finanziatori che non possiedono i diritti dell'opera ma che richiedono che l'opera sia rilasciata con una certa licenza o che i contenuti prodotti siano comunque resi aperti a volte sono le case editrici che poi detengono i diritti se si sono fatti cedere i diritti dagli autori in alcuni casi è abbastanza comune che le case editrici chiedano tutti i diritti esclusivi di un articolo in quel caso tutti i diritti vengono ceduti alla casa editrice e poi infine ci sono anche contenuti che appunto non non sono coperti da diritto d'autore o che sono in pubblico dominio perché l'autore è morto da oltre 70 anni quindi quando noi abbiamo i diritti di un'opera possiamo rilasciarla per esempio uno studente della SUPSI che ha fatto la sua tesi di laurea ha tutti i diritti sulla sua opera per cui può rilasciarla si può l'università può dire può fare anche un regolamento di diciamo licenza di default può dire che tutte le tesi di laurea sono automaticamente rilasciate con una licenza CC BY SA per esempio o so che forse al DFA è una CC BY SA NC quindi non commerciale e quindi tutte le tesi di laurea degli studenti per regolamento sono con una licenza aperta una licenza Creative Commons salvo ovviamente che lo studente dica no non sono d'accordo perché voglio usarla per un prodotto commerciale voglio cederla a un editore o per altri motivi un'altra cosa importante è che si può sempre chiedere un'autorizzazione cioè magari io non detengo i diritti d'autore li detiene qualcun altro e io posso chiedergli di rendere disponibile quel materiale con una licenza aperta dopo vi faccio vedere magari qualche esempio un'altra cosa è che quando una casa editrice mi chiede di cedere tutti i diritti esclusivi io posso anche chiedere se è possibile non farlo quindi si può sempre anche interagire con le case editrici e dire guardi in realtà per la policy di Swiss Universities la policy nazionale di Swiss Universities scusatemi ho tolto la condivisione delle slide per la policy internazionale di Swiss Universities è richiesto di non cedere tutti i diritti esclusivi alla casa editrice è possibile farlo e questa è una cosa che si può fare anche dialogando con le case editrici ecco in questo una cosa importante e che adesso anche nel guardare poi come si può creare una richiesta di autorizzazione una cosa importante che io ho visto funzionare molto bene è quella di spiegare sempre perché si sta si vuole una certa licenza cioè il fatto di dire la nostra università ha scelto di aderire alla politica nazionale sull'open science per cui vogliamo rendere disponibili i contenuti al più ampio pubblico possibile per cui chiediamo l'autorizzazione quindi premettere sempre il perché si stanno facendo le cose e coinvolgere le persone nell'aderire a quella direzione di lavoro di solito funziona in modo molto efficace e va sempre tenuto conto ecco un problema che emergerà e che ancora è una questione abbastanza aperta e sulla quale bisogna bisognerà fare chiarezza è che tutti i collaboratori subsi sono autori dei loro delle loro ricerche del loro lavoro ma non hanno i diritti d'autore sulle loro produzioni cioè la subsi attraverso il diritto attraverso il regolamento sul copyright ha i diritti sulle opere dei suoi collaboratori questo non vuol dire ovviamente che non sia riconosciuta il non sia riconosciuto il contributo e l'autorialità di chi ha realizzato questo materiale però è un è un materiale che non è non può essere gestito così liberamente dai collaboratori quindi anche lì il regolamento sul diritto d'autore della subsi andrà coordinato con la direzione open science anche nelle prossime nei prossimi lavori ci sono domande magari su questa questione della di come applicare la licenza c'è qualche bisogno di chiarimento ok allora secondo me magari adesso mi soffermerei un momento su l'ambito dell'open science quindi quando si incontrano le licenze tendenzialmente la licenza è una una questione che emergerà quando per esempio un ricercatore deve pubblicare un un articolo su una rivista open access vuole pubblicare sulla rivista e in base alle ai criteri per una rivista open access gold quindi le migliori riviste la rivista dovrebbe avere una licenza aperta non tutte le riviste pubblicano la licenza non tutte hanno una licenza aperta per cui anche verificare qual è la licenza della rivista può essere un uso significativo comunque una domanda che potrebbe essere chiesta un secondo tema che coinvolge soprattutto i ricercatori è quando ricevono da riviste case editrici il contratto da firmare per la loro pubblicazione all'interno del contratto la rivista o la casa editrice può richiedere l'accessione di tutti i diritti d'autore e se è una rivista open access gold specificherà la licenza con cui l'articolo o l'opera verrà poi pubblicata l'accessione di tutti i diritti d'autore è una cosa vivamente sconsigliata sia dalle policy di Swiss Universities che dalle policy europee in pratica si sta cercando con l'open science di evitare di cedere tutti i diritti alle riviste e alle case editrici perché l'accessione di tutti i diritti rende impossibile qualsiasi altro riuso quindi quello che si vorrebbe è evitare che questa clausola sia nel contratto è una cosa che però è molto comune per cui una cosa che si può fare è comunque negoziare cioè scrivere alla case editrice dicendo guardate noi siamo molto attenti alle politiche open science e volevamo chiedere se è possibile rimuovere la clausola dell'accessione di tutti i diritti non è detto che vada in porto però è una buona norma provare almeno a chiedere un'altra un'altra domanda molto comune che hanno spesso ricercatori docenti studenti è quali tipi di immagini e documentazione di altre persone possono essere utilizzate cioè si può usare il materiale di altri e che cosa bisogna farlo fare per poter usare quel materiale questo magari vi faccio vedere qualche sito però prima anche mostravo il sito di creative commons che indica quali materiali hanno una licenza creative commons oppure il motore di ricerca di google che permette di selezionare immagini che sono utilizzabili quindi queste sono ci sono diversi portali diverse fonti e canali di ricerca che permettono di trovare del materiale disponibile anche per altri usi e aperto poi appunto bisogna utilizzare quelle che sono le eccezioni quindi materiale in pubblico dominio oppure materiale che è soltanto citato o di cui si fa un uso specifico anche per informazione un altro tema che è emerso anche nei casi di studio che abbiamo realizzato quest'anno è chiedere l'autorizzazione cioè come si fa ad accordarsi con altre persone come si fa per esempio se si fa un convegno e si vogliono produrre dei video come si fa a chiedere il permesso adesso vi mostro magari un modello di questo un altro ambito in cui è richiesta la licenza è il data management plan cioè quando un ricercatore deve preparare soprattutto adesso per il fondo nazionale per i bandi europei un data management plan che è appunto un documento che definisce quali sono i dati e con dati si intende tutto cioè si intende dati informazioni testi immagini appunti mappe interviste cioè tutto con data è proprio un termine usato col più ampio spettro di applicazioni quindi quando i ricercatori preparano un nuovo progetto devono immaginare quali saranno i materiali che produrranno durante la ricerca e in che modo li renderanno disponibili li organizzeranno e li metteranno a disposizione di altri anche inserendo la licenza quindi nella data management plan il tema delle licenze compara perché definisce in che modo verranno poi resi disponibili i materiali prodotti dalla ricerca poi c'è il tema dei finanziatori quindi a volte sono i finanziatori che chiedono esplicitamente di utilizzare delle licenze oppure anche ovviamente le policy istituzionali quindi la sub si stessa sta definendo attraverso il suo lavoro di linee guida e di strategia open science quali sono le licenze da utilizzare e poi appunto in quali casi invece il ricercatore o il collaboratore SUPSI può specificare che non può utilizzare queste licenze per emotivare il perché infine poi un altro uso delle licenze che abbiamo visto emergere nei casi studio è il fatto che i ricercatori collaboratori SUPSI producono molti materiali quindi creano delle pubblicazioni interne possono essere dei manuali report linee guida atti di convegno oppure il materiale didattico le slide i materiali le dispense e adesso si sta andando nella direzione di rendere questi materiali interni open access per cui nel renderli open access anche inserire una licenza aperta è una una delle cose che che necessarie per entrare un pochino nel merito di queste questioni usare materiale degli altri ci sono vari sistemi per appunto già ve ne ho mostrati per esempio quando si ha le pubblicazioni allora è possibile fare una ricerca per le case editrici e le riviste per sapere quali sono le licenze che utilizzano il sistema più efficace per fare una ricerca su quello tra l'altro una ricerca molto comoda perché permette di identificare se una rivista è green open access cold open access che tipo di autorizzazione concede è utilizzare Sherpa Romeo che è questo sistema di ricerca delle riviste che fornisce già molte informazioni su quali sono le policy delle riviste e poi che permette anche di identificare abbastanza facilmente il tipo di copyright delle riviste seguendo poi il link ma ormai tutti quelli che sono risorse per l'apertura dei contenuti inseriscono la licenza quindi Zenodo quando chiede di caricare quando si caricano dei contenuti su questo database ma vale per tutti i database aperti richiede che si specifichi la licenza questa licenza viene inserita come metadato all'interno della scheda del documento ed è una licenza che ha tutti gli effetti riconoscibile anche dai motori di ricerca poi quando si prego a questo proposito magari già porre adesso la domanda su Zenodo perché è proprio un caso che ho per le mani in questi giorni un documento riperito in Zenodo che io vorrei poter se possibile appunto caricare sul nostro inventario degli studi della popolazione anziana in Ticino per il CCA il centro competente anziana e questo documento in effetti ha questa licenza proprio la 4.0 CC BAI e io mi chiedevo ho diritto di dunque salvare questo pdf e poi il pdf di questo documento caricarlo sul nostro sito puoi anche venderlo cioè la licenza ti permette di realmente lo puoi stampare lo puoi distribuire ne puoi fare 70 copie lo puoi dare gratuitamente lo puoi dare commercialmente puoi farci tutto quello che vuoi con una clausola che è BAI ti ricordi che è l'attribuzione devi citare la fonte ma basta se io faccio la referenza bibliografica metto accanto ci metto il pdf questo va bene così esatto attenzione attenzione perché i siti più intelligenti ti suggeriscono come citare correttamente per cui anche su Zenodo ci sono delle indicazioni a volte su come citare per cui vale la pena utilizzare quelle forse noi abbiamo già un nostro sul nostro sito abbiamo tutte le referenze le citiamo quello stile app ecco perfetto quindi sono standard comunque buoni probabilmente richiede di mettere il DOI quindi quella è una cosa che ha e poi ci saranno gli autori il titolo del cioè credo il vostro standard penso che sia insomma perfettamente idoneo all'attribuzione ecco grazie perché era proprio quello perché so che non tutti i pdf che tu reperisci online semplicemente perché sono li puoi ricaricare se li vedi non vuol dire che sono aperti esatto appunto volevo certarmi bene perché appunto anche l'ufficio di statistica così però che bisogna sempre richiedere perché non tutti hanno il com all'interno allora sì infatti e tra l'altro diciamo i documenti pubblici con l'open government stanno andando nella direzione di essere sempre aperti sempre più aperti però non lo sono sempre e manterrei comunque un pochino di prudenza cioè l'ideale è che ci sia la licenza cioè la realtà è che nel momento in cui c'è la licenza non ci sono più ambiguità e sei tranquillo quando non c'è la licenza nel dubbio di avere problemi uno li contatta è vero anche che bisogna anche usare una logica un po' da avvocati l'avvocato calcola le probabilità che uno ti citi cioè qual è il rischio cioè quante sono le probabilità che l'uso che stai facendo sia un uso problematico per esempio se si sa che una persona non so uno studioso c'è stato magari uno scandalo c'era del materiale che è di plagio cioè quei casi lì conviene francamente starci un po' lontani perché probabilmente la persona che si ritrova un testo pubblicato e c'è qualche pasticcio dentro farà di tutto per farlo rimuovere per cui quando ci sono delle questioni un po' problematiche c'è un campanello d'allarme da suonare oppure ci sono persone che sono basti a incontrare non so ci sono dei colleghi che sono problematici che non vogliono si sa che magari saranno persone che creano problemi oppure si sta facendo un uso molto particolare di una cosa non so si sta usando per usi commerciali per un nuovo prodotto allora si sa che lì c'è un il tema commerciale è sempre un po' c'è sempre un campanello d'allarme quando c'è un uso commerciale vero anche che gli americani usano una tecnica diversa cioè Google in molti casi ha fatto delle scelte che non erano consentite va a gamba tesa e poi decide di gestire i diritti successivamente quindi il mondo poi non funziona sempre seguendo la legalità a volte può seguire anche la legittimità quindi ci sono appunto i confini di questi usi sono comunque un po' è chiaro che se uno ha un ottimo ufficio legale può permettersi di fare delle cose che magari noi preferiamo evitarci perché non abbiamo voglia di avere conflitti per cui l'ideale è o avere una licenza indicata nel sito nella documentazione che rende perfettamente utilizzabile il materiale seguendo le indicazioni che fornisce oppure chiedere l'autorizzazione oppure mettere una clausola anche nei siti dicendo abbiamo fatto di tutto per cercare l'autore cioè se è il caso ovviamente e dare un indirizzo che ti permette di inviare un contatto di creare un contatto se effettivamente hai usato il materiale non sapevi bene e non sei riuscito a recuperare la fonte anche quella è una cosa impossibile insomma non è una cosa di solito ti fanno causa se c'è qualche motivo strano oppure se ci sono conflitti però se spieghi le cose alla peggio le rimuovi per esempio uno dei progetti più incredibili da questo punto di vista è Internet Archive Internet Archive è il più grande backup quindi salvataggio di internet in pratica sono tantissimi server che compra a Pallet e è un'organizzazione no profit che fa salvataggi continuamente di internet e ha una delle biblioteche più grandi del mondo e loro dicono noi siamo una biblioteca non siamo un sito internet e le biblioteche possono prestare i loro volumi per cui stanno facendo delle copie dei materiali e li rendono disponibili come prestito anche lì è una scelta molto limite perché in realtà molti non sono d'accordo però hanno un buon ufficio legale è una scelta ideologica e hanno anche molte risorse molti soldi per cui è una però è una direzione che va diciamo in modo completamente diverso da come stiamo andando noi noi tendiamo ad avere paura a usare qualsiasi cosa mentre invece forse in fondo le biblioteche come ben sappiamo era il massimo del peer to peer cioè erano le vere istituzioni che prestavano avevi un libro lo potevi prestare a un tuo amico non è che era invece adesso è diventato tutto molto più complicato e tendiamo anche ad avere paura di insomma di essere molto cauti diciamo che nel momento in cui c'è una licenza possiamo essere tranquilli quindi questo è un vantaggio abbastanza significativo grazie prego vi faccio vedere anche la questione delle autorizzazioni che magari può essere utile e poi avrei finito allora dunque vi ho già fatto vedere questo esempio su come trovare su google ci sono anche dei siti per esempio wikimedia commons che ha tutte immagini ecco giusto un accenno attenzione che ci sono dei contenuti che sono più problematici di altri per esempio nel mondo le immagini dei monumenti sono complicate perché i monumenti in molti paesi quando facciamo una foto di un monumento c'è il diritto del fotografo che fa la foto al monumento c'è il diritto di chi possiede il monumento ci sono quindi ci deve far entrare nell'edificio oppure no in alcuni paesi del mondo può essere la persona che detiene i diritti anche di oggetti all'interno di una collezione che anche se quei materiali sono in pubblico dominio non ci permette di fare le fotografie quindi non ci dà l'autorizzazione un altro tema è il diritto di chi ha costruito l'edificio l'artista che ha prodotto un'opera d'arte anche lì ci sono dei diritti sull'immagine e durano per 70 anni dopo la morte dell'artista e dell'autore c'è un'eccezione che è legata alla libertà di panorama in Svizzera c'è la libertà di panorama quindi si possono fare fotografie in pubblica vista cioè posso fare una fotografia di un monumento che vedo all'esterno però non tutti i paesi del mondo hanno la libertà di panorama e tra i più noti l'Italia e la Francia non l'hanno per cui serve un'autorizzazione anche da parte dell'artista o dell'architetto che ha creato quell'edificio o quell'opera d'arte o quell'opera d'arte pubblica infine ci sono anche delle legislazioni restrittive sul patrimonio non è il caso della Svizzera però cito questo perché quando si fanno poi i progetti di ricerca spesso il materiale viene da più luoghi del mondo e l'Italia è uno dei posti più complessi con la legislazione del codice urbano ma anche la Grecia il Nord Africa molti paesi del Mediterraneo che hanno subito i famosi furti di opere d'arte ma parlo di furti napoleonici di opere che sono state portate via dalle nazioni poi l'Africa ha adottato legislazioni molto restrittive questi paesi hanno appunto delle legislazioni che tutelano il patrimonio e quindi anche su quello ci sono molti limiti e molte restrizioni comunque anche quando ci sono limite si può sempre chiedere l'autorizzazione questo vale per tutto sia che gli autori siano viventi sia che ci siano colleghi a cui chiedere sia che ci sono partner o progetti con degli eredi insomma l'autorizzazione la si può chiedere e proprio per restando sul tema dell'autorizzazione si può chiedere allora volevo darvi un piccolo esempio di modello di liberatoria per raccogliere il materiale questo l'avevo scritto semplicemente per dei colleghi del del mio stesso dipartimento che stanno facendo un lavoro di ricerca utilizzando materiale di architetti e quello che fa questo modulo è riprende i modelli di autorizzazioni che usa Wikipedia Wikipedia usando delle licenze libere chiede spessissime autorizzazioni per cui ha un modello abbastanza standard di richiesta e lo ha un po' adattato questo modello all'uso che ne hanno fatto e sostanzialmente la tecnica che tra l'altro ha funzionato abbastanza bene gli architetti hanno aderito non ci sono stati problemi usa appunto il consiglio che davo cioè il testo inizia con una spiegazione di cosa si sta facendo come e perché cioè si comincia dicendo appunto che si sta scegliendo di rendere disponibile il materiale con una licenza aperta con quale licenza e lo si sta facendo per facilitarne il riuso per rendere disponibili i materiali e per permetterne anche il riuso su vari siti e si invita il collaboratore la persona lente a rendere disponibile anche il suo materiale una selezione del suo materiale con quella stessa licenza il testo poi che segue indica appunto le caratteristiche della licenza quindi in questo caso quando si chiede un'autorizzazione bisogna esplicitare quali sono le cose che vengono autorizzate quindi nel caso della licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo si chiede appunto che il materiale possa essere usato anche per scopi commerciali che la licenza non avrà una fine di validità e si chiede di firmarlo il documento può essere fatto firmandolo a mano ma può essere anche fatto via mail possibilmente con una email diciamo professionale è sempre bene quando si fa un'autorizzazione fare comunque un accordo per iscritto ma anche registrato va bene per esempio si può quando si fa un video si spiega quale sarà la licenza che si userà e c'è il silenzio assenso in quel caso va bene rimane comunque l'autorizzazione della licenza registrata sul video sull'audio quello che è quindi questa è una tecnica per rendere disponibili materiali di altri chiedere l'autorizzazione ma un consiglio è quello che è sempre meglio accordarsi sulla licenza all'inizio di un progetto di iniziativa per esempio quando si scrive un progetto può essere molto efficace inserire nel progetto stesso quale saranno le licenze di default come sarà rilasciata poi la documentazione questo può essere è più complicato ovviamente farlo per i servizi perché di solito i servizi sono degli accordi commerciali in cui c'è un'accessione di tutti i diritti all'ente per il quale si fa il servizio per i progetti di ricerca è più semplice per cui si può inserire la licenza nel progetto di ricerca ma anche per i mandati anche per i servizi può essere intelligente dire dopo quanti anni quel materiale potrà essere utilizzato cioè stabilire anche che a un certo punto anche una ricerca realizzata nell'ambito di un servizio di un mandato a un certo punto si può scrivere un articolo per esempio su quel lavoro che si è svolto e quindi chiarire come verranno usati i materiali e quando potranno essere usati quei materiali lo stesso problema si pone quando si fa una conferenza o un evento affinché si possano distribuire le slide si possano pubblicare sul proprio sito si possano fare fotografie o registrazioni audio e video bisogna avere un'autorizzazione dei partecipanti e chiarire prima dell'evento questo può essere molto utile infine per i mandati o le lettere di incarico ai collaboratori bisogna ricordarsi che il materiale che è prodotto dai collaboratori subsi è della subsi cioè gli autori sono gli autori ma la proprietà intellettuale è della subsi questo però vale per dei collaboratori che hanno un tempo pieno o delle percentuali molto alte questo non è definito in modo molto chiaro però tendenzialmente sono dei collaboratori dipendenti invece quando si tratta di mandati o lettere di incarico è necessario esplicitare la licenza altrimenti non è non è automatica ecco io avrei finito questo era scusate vi ho inondato con tipo tutte le questioni non so se ci sono magari chiarimenti vogliamo ritornare su qualche punto io ho una domanda Ioranda vai 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 scusa Nesh scusa per quanto riguarda i lavori di diploma confidenziali come funziona a livello di licenze Allora la licenza può essere se è un lavoro di ricerca confidenziale è chiaro che non si vuole distribuirlo per cui è inutile mettere una licenza cioè resta confidenziale la domanda è anche se si vuole creare quello che viene chiamato nei termini delle riviste un embargo cioè un tempo in cui quel materiale resterà confidenziale e poi invece non so 5 anni 10 anni poi dipende un po' dal tipo di di materiale oppure se ci sono dei dati privati quindi sono perché scusami il caso delle tesi in cui ci sono dei problemi legati a renderle disponibili sono di diverso tipo allora ci sono delle tesi che sono magari dei servizi fatti a delle aziende questo è molto comune al DEAS per esempio per cui quelle tesi nascono da un accordo con l'azienda e quindi nascono con un accordo di confidenzialità in questi casi varrebbe la pena comunque chiarire un tempo per quanto tempo quei dati devono restare confidenziali questa non è una pratica nuova è una cosa che InnoSwiss che è il più importante finanziatore dei progetti diciamo di servizi e prodotti che fanno anche le SUP ha già nelle sue procedure nelle lettere di accordo è inserito comunque un tempo quindi questo è un primo caso di tesi di laurea in cui ci sono dei problemi di confidenzialità un secondo tema è quello legato a dei dati privati o dei dati critici questo che però mi sembra strano che possono essere usati all'interno di una tesi tendenzialmente vengono anonimizzati per cui soltanto dei dati anonimizzati possono ovviamente essere messi in un documento pubblico bisogna tutelare ovviamente la privacy proteggere le persone proteggere soprattutto i minori persone fragili quindi questo è un tema etico bisogna anche non rendere troppo riconoscibili le aziende a volte ci sono dei problemi anche bisogna chiamare il caso A, B e C per esempio quando il DEAS fa una ricerca in cui valuta la capacità la resilienza delle aziende ai cambiamenti del digitale il fatto di mettere i nomi delle aziende può essere un problema perché rende complicata la pubblicazione dei materiali pensavi a un caso diverso per quanto riguarda tesi confidenziali? No sostanzialmente quello che hai detto parlavo soprattutto per il DT che ha molti casi legati appunto lavori fatti in azienda sì in questi casi sì esatto hai ragione DEAS e DT hanno veramente la principale la frequenza più maggiore di questo tipo di tesi in quei casi però ha veramente senso comunque mettere un tempo calcolo tendenzialmente i tempi soprattutto sui prodotti innovativi non è che sono molto più di cinque anni però insomma definendo comunque un tempo rende prima o poi quel materiale accessibile altrimenti veramente è destinato comunque a essere proprio buttato magari altri altre domande altre sì ecco mi scuso ecco io avevo delle domande su alcune licenze che avevi spiegato mi sono perso su alcune aspetta dopo la ecco dopo la cc by sa veniva allora sì non è che le ho perché poi ho una soglia dell'attenzione un po' bassa per cui dopo un po' mi annoio e non le faccio passare bene allora no vi stavo vi stavo indicando alcuni dei dei simboli in realtà è proprio una combinazione non le ho dette tutte ho d'accordo soltanto l'nc che è una caratteristica delle delle licenze che vuol dire non commerciale quindi in questo caso diventa vedete anche il mouse scusa il cursore quindi nella terza licenza sulla sinistra si tratta di una creative commons attribuzione non commerciale quindi puoi fare tutto non devi neanche mantenere la stessa licenza però non puoi usarlo per materiale commerciale per usi commerciali faccio una piccola parentesi sull'uso commerciale è una cosa che mi è successa tantissime volte con le organizzazioni no profit le organizzazioni no profit tendono a usare delle licenze non commerciali è un po' come se sentissero loro essendo no profit che non bisogna produrre dei materiali che possono essere usati poi per scopo commerciale è un po' un fraintendimento in realtà nasce un po' da da questa preoccupazione in un uso spietato commerciale in realtà togliere l'uso commerciale vuol dire non permettere non permettere che i materiali finiscano su wikipedia non permettere che finiscano sui siti di open educational resources vuol dire che i materiali non possono finire in un libro di testo o in una rivista in una pubblicazione quindi in realtà riduce molti scopi che in realtà sono scopi che spesso le organizzazioni no profit sostengono quindi attenzione a questa questione del non commerciale che spaventa a volte ma molto spesso è anzi una scelta molto sana poi per le subsi è interessante per le sub è interessante in generale perché noi abbiamo come vocazione sostenere anche lo sviluppo economico dei territori facilitare anche la trasmissione della ricerca verso le aziende e la collaborazione anche con i vari enti per cui anche permettere l'uso commerciale è molto positivo perché appunto va a sostenere anche potenziali new business poi se il business vuole farlo la subsi può negoziare per creare un brevetto o creare altre cose però se non c'è uno scopo un'intenzione di produrre uno spin off o un uso commerciale del materiale e del prodotto tanto vale renderlo disponibile per altri che altri lo possano fare poi altre licenze sulla destra sono la buy and see essay nc non commerciale e ancora una volta richiede lo share alike quindi l'uso della stessa licenza e infine le ultime due sono le due licenze che introducono il nd non derivative niente prodotti derivati vuol dire che non voglio che il mio materiale sia modificato anche qui c'è una cosa strana allora se io se io sono una pubblicazione e faccio un'opera e la rendo modificabile da altri non vuol dire necessariamente che qualcuno viene sul mio sito e mi modifica il sito o entra dentro la mia pubblicazione e me la cambia questo è possibile su dei siti collaborativi per esempio su wikipedia effettivamente puoi entrare dentro wikipedia e puoi cambiarla nella maggior parte dei contenuti quello che succede è qualcuno arriverà prenderà quei dati che tu hai prodotto o quella pubblicazione la metterà da un'altra parte e produrrà qualcos'altro con quello ma non è che viene toccato il tuo materiale semplicemente possono essere create delle opere derivate che usano quel materiale scusate se lo specifico ma ho notato che è una cosa che magari preoccupa ma dare l'autorizzazione alla modifica non vuol dire che modifichi il mio il mio ce l'ho io non è che puoi entrare dove vuoi puoi prendere il materiale farne una copia e modificare la tua copia questo è vabbè e quindi le ultime due introducono questa caratteristica e in più la cc buy and c and d non permette l'uso commerciale come dicevo però appunto sono soltanto la cc buy cc buy a 6 e la cc 0 che corrispondono veramente all'open ai contenuti aperti perché dobbiamo sempre permettere il riuso e dobbiamo sempre permettere l'uso commerciale secondo la dichiarazione di Berlino sostanzialmente poi ecco questo è nel mondo ideale perché poi come sempre quello che succede è che a un certo punto hai una pubblicazione la pubblicazione comunque almeno ha messo la licenza e allora vabbè cioè si spera che poi l'anno prossimo quando scegli la prossima rivista magari fai attenzione alla licenza però bisogna anche puntare al massimo e poi adattarsi alla realtà perché poi non è che tutti i contenuti sono disponibili liberi non è sempre facile accordarsi anche con i partner ecco sarete morti adesso dopo questa come è andata è abbastanza chiaro era come ma per quanto mi riguarda appunto a parte il fatto che volevo ringraziarti ma ho sorriso un po' perché è stata una materia dell'esame che ho fatto sabato proprio su queste creative commons cioè non solo su questo però c'era una parte anche su questo quindi diciamo che i codici eccetera adesso li ho ben come dire nella mente e tra l'altro trovo molto comodo questa cosa del sito perché come dicevi non tutti sono in grado di palleggiare quelli che sono i codici e quant'altro e magari non sanno neanche bene come usare queste creative commons no e trovo che il sito sia veramente un grande aiuto in ogni senso spiega che cosa sono ti dà appunto questo form da compilare in cui è già lui a dirti guarda allora la licenza che cerchi è questa quindi secondo me è chiaro è meno chiaro di solito per chi le legge cioè io autore di un documento riesco a dare un tipo di licenza ma chi legge il documento è in grado poi di capire questa licenza è sempre quello secondo me è il punto ma era stata fatta un po' di anni fa una ricerca sull'uso delle creative commons adesso avrà già un cinque anni scusate dovrei andare a recuperarla però una cosa che era abbastanza emblematica era il fatto che mentre allora se non c'è scritto niente la gente fa quello che vuole cioè proprio illegalità proprio senza nessun ritegno se invece c'è la licenza creative commons tende a fare le cose molto bene quindi ad attribuirla fare esattamente l'uso che tu gli hai dato ed era un risultato molto interessante perché vuol dire che era comunque una quando vedevi che c'era un'autorizzazione tendevi a rispettare l'attenzione che quella persona ti aveva dato comunque nel darti l'autorizzazione mi sembra promettente come cosa per cui penso che le persone comunque iniziano a conoscerle poi per carità è un un ambito anche io mi accorgo anche andrebbero fatti un pochino dei corsi anche per gli studenti che devono fare i lavori di tesi esatto sì perché poi anche i docenti non sempre hanno familiarità con le licenze per cui difficile che venga inserito insomma nel percorso ho fatto degli errori allora ti prego correggimi non esitare a parte che non mi permetterei mai il modifica vale anche sui miei guarda se li hai fatti non li ho visti quindi quindi no non credo poi no assolutamente cioè io ho detto è stato uno studio ma poi da qui a palleggiarli e fare una presentazione è tutta altra cosa però per dire che ecco adesso mi sembrano più chiare di quanto mi sembrassero all'inizio ecco mi sembra di capire che per i lavori di diploma almeno del bachelor non so se mi sentite sì sì prego ah ok mi pare che abbiamo adottato in SUPSI il buy non commerciale non so se è vero tanto quello che non capisco c'è la distinzione tra il 3.0 2.5 4.0 che cosa sono allora il 4.0 è l'evoluzione della licenza il 4.0 è la licenza attualmente migliore perché è l'unica licenza compatibile con tutti i paesi del mondo cioè quando inizialmente sono nate le licenze creative commons veniva scritto il testo della licenza però questo testo doveva poi essere tradotto in ogni sistema giuridico che aderiva alla licenza quindi creare cioè la prima licenza era stata poi tradotta da un team di avvocati sono quelli di creative commons italia creative commons vizzera ogni nazione aveva preso il testo e aveva fatto in modo che fosse riscritto per la giurisprudenza nazionale con l'evolversi del tempo si è riusciti a includere sempre più paesi e attualmente la licenza 4.0 è una licenza che ha una validità giuridica internazionale quindi vale per tutti i paesi del mondo è stata una rivoluzione allora tendenzialmente io molto spesso scrivo la licenza scrivo all a l l quindi in inglese vuol dire tutte perché come accennavo prima è possibile scegliere più licenze quindi in questo caso è come se io dicessi vale la la 2.0 la 3.0 la 4.0 quella che volete voi perché mi è capitato di avere un'incompatibilità di licenze è molto raro però sono delle situazioni io sinceramente non me ne preoccuperei tendenzialmente suggerisco di usare la 4.0 perché è stata una rivoluzione cioè è una delle licenze più una delle cose più emozionanti nella storia perché si è riusciti finalmente a fare un accordo che vale dal Bhutan perché non so immaginate adeguare la licenza all'Arabia Saudita cioè c'erano dei problemi legali molto complessi per cui diciamo questa licenza è stato comunque un grandissimo trionfo per tutti i movimenti del sapere libero per cui suggerirei di usare l'ultima versione però le versioni precedenti tendenzialmente è semplicemente che era l'ultima che c'era quindi è stata adottata alcune volte viene trasferita tutta la licenza verso la nuova versione molto spesso viene fatto così però insomma a volte si trovano le varie licenze con i numeri che sostanzialmente corrispondono all'epoca in cui è stato fatto il documento funziona come risposta? Sì non saprei esattamente al momento se dovessi scegliere quale o scegliere la 4.0 ma è una scelta arbitraria o istituzionale dobbiamo scegliere ma di solito sulla versione si mette l'ultima disponibile si mette l'ultima sì non è che è una cioè è semplicemente appunto un miglioramento della compatibilità della licenza questo numero non è così determinante è la scelta invece della licenza che può essere una scelta più critica da un punto di vista istituzionale è vero anche che con l'introduzione di questi accordi nazionali quindi di Swiss Universities e questo anche questa pressione sempre più forte dell'Unione Europea verso contenuti liberi si sta andando per licenze più aperte tendenzialmente il mio suggerimento di usare la la CC BY SA quindi questa licenza con anche l'attribuzione è un è un po' restrittiva cioè io sto suggerendo in realtà di andare in una direzione meno aperta di altri è proprio perché io faccio parte di un movimento che è per il copyleft quindi è per mantenere aperti i contenuti è possibile che come licenza di default venga scelta la CC BY anche da un punto di vista istituzionale perché è ancora più aperta per cui è poi in realtà il motivo per il quale viene scelta la CC BY è perché molte delle persone che scelgono le politiche di apertura dei dati non si sono mai confrontate poi con il riuso effettivo dei dati quindi dicono meglio aprirla completamente in realtà poi ci sono dei problemi nel momento in cui tu l'apri completamente ma uno dei partner ti chiude il pezzo di progetto per cui questo non è ancora stato molto affrontato probabilmente salterà fuori poi nel momento in cui ci sono i progetti collaborativi insomma quanto più viene avanti la CC BY SA io la suggerisco perché venendo dal mondo di Wikipedia che usa questa licenza e dei progetti collaborativi online si sa che se poi si chiude il materiale devi poi eliminare parte di quello che è il progetto insomma crea delle complessità poi nel mantenere i progetti di ricerca attivi fermo restando che si possono anche usare volendo tutte e due però sì questa è una scelta istituzionale abbastanza specifica volevo aggiungere solo una cosa riguardo a questo questo tema Swiss University nella linea guida per l'open access delle per la stesura delle policy dell'open access loro raccomandano le CC BY quindi ecco a livello sub si non abbiamo non si è ancora deciso in direzione se addirittura restringere l'utilizzo la possibilità delle licenze ecco per l'open access sicuramente tutte quelle considerate libere come dicevi tu quindi le CC0 CC BY e CC BY SA ci sono altre domande è stato chiaro io penso che Yolanda è la migliore in questo campo almeno in SUPSI sei sei la più l'esperta su questo settore quindi approfittate se avete altre domande se poi resto comunque a disposizione quindi anche se servono dei chiarimenti o magari serve capire insomma meglio qualche passaggio qualche cosa o anche degli esempi concreti in cui in cui dovete confrontarvi è importante secondo me iniziare a prendere un po' confidenza con questi temi perché in realtà non sono complicati cioè non sono delle cose così misteriose sono state fatte per essere comprensibili è chiaro che è un'abitudine nuova cioè una cosa che è chiaro che finché uno non l'ha ancora mai fatta non ha mai inserito in un documento messo su un sito opposto il problema è difficile perché le cose nuove sono sempre difficili però nel momento in cui si comincia si fa un pezzettino magari si segue una tesi in parte che l'avete già fatto tutti con le tesi per cui anche quello è già applicato però insomma nel momento in cui diventa una pratica anche sui vari prodotti che facciamo sugli articoli o iniziamo a farci caso diventa più facile Eolanda sarebbe possibile avere la tua presentazione? Certamente sì sì certamente la mando e ve la posso anche caricarla sul sito che così l'avete a disposizione con piacere Volentieri grazie 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 Ciao Ultima cosa faremo a giugno una serie di incontri che possono magari essere interessanti anche per voi con il DACD che saranno con Alessandro Pierno che è un ci sarà un primo incontro che faccio io più generale sull'open science proprio all'inizio di giugno poi tutte le settimane ce ne sarà uno anche registrato sarà su come scegliere una rivista open access come funziona il data management plan come produrre open e fair data quindi delle questioni molto generali penso di interesse anche per i ricercatori Alessandro Pierno dell'Università di Firenze è una persona molto spiritosa per cui di solito le sue presentazioni sono molto piacevoli quindi le raccomando con molto se avete voglia sono brevi presentazioni di un'ora io ho una domanda Yolanda scusami avevi accennato che per i dati della ricerca ci sono altre licenze per i dati del software soprattutto software è quello che utilizza di solito delle delle licenze più tecniche e delle licenze più adatte anche una storia più lunga il software di licenze libere Ok potresti un attimo approfondire su questo argomento oppure Allora non è il mio campo quindi sul software secondo me conviene fare riferimento magari a persone che si occupano proprio di software libero ci sono è uscito questo manualetto abbastanza semplice quest'anno prima avevo citato perché era carino come racconta di Richard Stallman però insomma le GNU cioè tutta la parte di GNU di copyleft di organizzazioni allora tra l'altro sono documentate molto bene anche su Wikipedia stessa perché sono tutti argomenti all'interno dei quali sono gli informatici sono molto presenti su Wikipedia quindi le pagine sono abbastanza ben fatte posso darti se vuoi qualche link al software libero però a volte sono anche delle licenze che sono scritte direttamente da chi si occupa di software ci sono ce ne sono tre che sono le principali però appunto non saprei raccomandare quale scegliere rispetto a un'altra posso eventualmente coinvolgere una persona più specializzata so che beh anche Massimiliano Cannata che è un collega di ACD che si occupa soprattutto di software legato ai GIS quindi al materiale georeferenziato lui è molto esperto anche lui può suggerire ok grazie sì se mi mandi magari un paio di link dove se ne parla volentieri grazie benissimo bene possiamo forse salutarci allora grazie mille per la grazie 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 ciao 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 Grazie.